Ragazzi, siamo in onda! Buongiorno, 7 morti e 7 feriti per la sconversa di Berlusconi. Ma raccomando, ma purtroppo è morto, 10 scorreggio di suo figlio. Vi dispiace per lui, ci sarà il funerale, è 17. Comunque, domani ci sarà la ricerca di Berlusconi, ma sarà andata al bagno, della pulizia. E comunque, ora ci saranno le previsioni del tempo, che saremmo noi, le prototipiste. Ciao, mamma! E che saremmo noi, a Foggia ci sarà la pioggia di patate. Invece, a Bari ci saranno una grandinata di pesci. E poi, a Bari, ci sarà la pioggia di focacce. Ok, abbiamo finito. Buonasera! Ciao, mamma! Ciao, mamma! Oh, ma chi siete voi? Andate via! Ah, buonasera, allora! Buonasera! Stop! Oh, finalmente, stili giornali si mi sono diventata! Che Dio ce la mandi buona! Stop!